ciao a tutti benvenuti a un nuovo video di cazzo non parliamo di che cosa oggi faremo faremo le cose più stupide immaginabili lanceremo il monopattino e lo faremo arrivare a quella si è però bella vero vai iniziamo in compagnia di quello che è sopra il coso in compagnia di brutta cosa e dai incominciamo genius guardate che bei piedi 2g life 2g life ok vediamo che cosa c'è dentro il tombino il mistero chi lo sa dai allora vai tienilo l'altezza delle cose scusate colpa mia